Il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e Patricia O'Donovan, direttore del Centro di Formazione ONU di Torino, hanno firmato un protocollo d'intesa per il 2012. L'accordo prevede per il secondo anno consecutivo che i corsisti del CIFOIL provenienti da tutto il mondo visitino il Consiglio regionale del Piemonte. L'anno scorso, tra marzo e ottobre, sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris 350 corsisti del Centro di Formazione ONU. Oggi firmiamo il nuovo accordo e sono molto contenta di rinnovare la collaborazione iniziata l'anno scorso, è il segno che abbiamo lavorato bene. Come direttore del Lilo voglio dire che questo è estremamente importante. Il Consiglio regionale sta facilitando la formazione dei nostri studenti che arrivano da tutto il mondo e a cui diamo l'opportunità di conoscere le strutture, il sistema politico e il governo del Piemonte. Noi apprezziamo davvero tutto questo e il supporto che riceviamo. Sono pertanto grata di essere qui e vi ringrazio.